La polizia belga ha arrestato nel centro di Bruxelles un uomo sospettato di essere in contatto con la rete terroristica dietro gli attentati di novembre a Parigi, costati la vita a 130 persone. Si tratta del nono fermo in Belgio nell'ambito delle indagini dell'antiterrorismo su potenziali cellule dell'ISIL. Secondo la polizia l'arrestato avrebbe avuto contatti con Ajna Haith Bulashen, cugina di Abdelhamid Abaud, proprio nel periodo degli attentati. Entrambi sono rimasti uccisi nel blizzi di Saint-Denis. Lunedì scorso, sempre a Bruxelles, un'operazione delle forze di sicurezza ha portato in carcere cinque persone. Tutti e cinque sono stati rimessi in libertà dopo gli interrogatori.